1530 Un'indombita violenza Mostra schermo interetano Allo spuggico soprano Dalla pontificia brama La repubblica soprana Da risposta agli assanianti Con i musici e i cancianti Chiedendo gli azzurri Sono emozionale E chi lo senti Non fanno più i colori Ma la suerte Firenze Sud è uscito da pochissimo Brucerà per te il vostro nuovo disco anticipato quest'estate nella festa di San Giovanni dal singolo 1530 Un pezzo, io partirei subito da questo perché è un pezzo molto critico nei confronti di Firenze Una città che sta cambiando Si parla di gentrificazione Voi vi sentite un po' turisti in casa vostra Un'esperienza che tanti che vivono a Firenze stanno provando Cosa succede? Cosa sta succedendo? Sì, il pezzo è 1530 Parla come spunto della partita di calcio storico dell'assedio che è stata fatta il 17 febbraio 1530 Partendo da questo spunto storico abbiamo fatto un confronto con la Firenze che può apparire oggi dove alla cultura all'arte, alla socializzazione si punta più al purtroppo al denaro al guadagno non ci sono più piazze frequentabili ma ci sono molti alberghi a 5 stelle abbiamo i negozi Prada e magari chiude il tabacchino che è stato aperto 60 anni è un pezzo nato veramente nel giro di poco tempo perché gli spunti purtroppo li sentiamo tutt'oggi e speriamo che non vada a peggiorare il nostro essere una specie di denuncia con la polemica giusta perché noi siamo orgogliosi e fieri di essere fiorentini e vivere la città e anche lottare in qualche maniera contro queste cose che non ci vanno bene e pensiamo che possono cambiare Senti il video tra l'altro è molto carino si basa su un'idea semplice però divertentissima un cambio di scena basato sullo spostamento di questi selfie stick che come saprai sono stati vietati anche agli uffizi ormai Ma sì appunto quello che succede è un po' questo sì l'idea del video è un'idea nata da da noi insomma parlandone insieme quindi la sensazione è un po' questa cioè sentirsi un po' turisti a casa casa propria quindi qual'idea migliore di usare in maniera irriverente come poi allo spirito fiorentino usare proprio quel tipo di di tematica lì anche perché insomma società contemporanea ti trovi a visitare un sacco di città e poi alla fine non vederle vedi tutti attraverso lo schermo vedi tutti questi turisti che fotografano fotografano ma poi non guardano e che succede magari stai mezz'ora a cercare di fare una bella foto da un tramonto e poi tramonto è passato e te non l'hai visto quindi c'è un po' questa questa sensazione di poca poca volontà di vivere la città il sensazionalismo no? di riprendere tanto che poterlo mettere su social media c'ero c'ero guarda come era bello ma poi in realtà magari mi raccontava un amico cinese che lavora nel turismo che alcuni suoi gruppi di di turisti andando in una città molto vicina qui a San a San Gimignano alle otto di sera pensavano che San Gimignano chiudesse come un parco giochi ma ma come ci sono le persone ma non chiude ma qui ci vive ci vive la gente quindi insomma diciamo è è grave sta cosa ma anche il giorno stesso in cui siamo andati la giornata che abbiamo fatto in centro per registrare i video è stata comunque abbastanza così esplicativa e rappresentativa perché noi non siamo dei grandissimi frequentatori del centro specialmente nei pomeriggi e quindi vedersi no? in vasi letteralmente da orde di taxi elettrici che di continuo non sa nemmeno dove girarsi quello il selfie stick che ti viene addosso e che appunto non sta guardando la strada ma sta guardando lo schermo è stata abbastanza abbastanza insomma scioccante capito? perché non era così insomma alla fine è quello cioè noi siamo abituati a voglia a vedere migliaia di turisti in Firenze è sempre stato questo però un turismo diverso cioè più consapevole più interessato e veniva comunque con una cognizione di base di quello che voleva andare a vedere sapeva quello che voleva andare a vedere oggi sembra tutto un po' no? buttate lì arrivi il pullman li buttano lì appunto in questo in questo parco giochi poi alle sette mi raccomando tutti su il pullman e via penso che anche a chi lavora nel settore non sia una cosa che poi gli fa tornare tutto questo questo rientro anche economico insomma quindi non si sa chi giovi ecco senti voi siete nati nel 1997 nel nel CPA e volevo chiedervi come è cambiato il CPA nel corso di tutti questi anni e come sono cambiati i centri sociali in Italia hanno ancora quella forza quell'importanza che avevano 20 anni fa 10 anni fa oppure eh c'è comunque stato un cambiamento orgogliosamente il CPA ha tentato di cambiare il meno possibile almeno da un punto di vista del dei principi e eh che influenzano principi che influenzano tutto sia dall'azione di piazza eh fino a arrivare alla alla spillatura delle birre nel senso che eh è uno dei centri sociali in Italia che ha deciso di non fare autoreddito per cui eh vive di eh militanza volontaria non retribuita chiunque anche quello che ti chiede i 3 euro all'ingresso del concerto non è retribuito e questo secondo me il tenere fuori la il reddito dal dal CPA è quello che ne ha preservato anche i valori e la possibilità di 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 mantenere una linea eh coerentemente politica eh in Italia purtroppo il eh i centri sociali subiscono esattamente quello che subisce il resto della società cioè lo spostamento a destra della della società italiana ed europea che c'è stata negli ultimi vent'anni non non può non influenzare almeno dal punto di vista del numerico proprio del di quanto le nuove generazioni ehm continuano a dare rinnovo a alla militanza e tutto unito a una repressione diretta e indiretta che si è sviluppata dagli anni dalla fine degli anni 90 a oggi eh sinceramente ha fatto perdere molto eh peso fa perdere molto peso a quello che è la la sinistra antagonista e i suoi luoghi al tempo fra l'altro anche da un punto di vista culturale i centri sociali erano un vero e proprio circuito cioè se tu suonavi e entravi nel circuito dei centri sociali facevi eh 50 date l'anno oggi devi fare il giro tre volte per fare 50 date poi mi immagino ci fosse anche un collegamento maggiore anche con l'estero magari da vent'anni sulle barricade questi siamo noi ma ci siamo solo noi da vent'anni c'è un'occupazione a Firenze Sud ci dirà rivoluzione poi mi immagino ci fosse anche un collegamento maggiore anche con l'estero magari con la Francia con la Spagna che forse ora c'è un po' meno era una rete un pochino più diciamo così internazionale sì internazionale vasta chiaramente questo sì come diceva giustamente Leonardo si è un po' ridotto e penso sia stata una cosa fisiologica nel senso però devo dire che l'impegno in tantissime città anche dove non è semplice perché insomma Firenze da un certo punto di vista è un po' una così una mosca bianca no perché comunque la controparte non è c'è ovviamente ma non è così agguerrita e numerosa ma purtroppo girando l'Italia e non solo abbiamo visto abbiamo potuto constatare che è una realtà abbastanza a sé perché comunque ci sono città dove hanno dei problemi reali proprio di aggressioni anche fisiche quotidiani quindi insomma non è semplice anche fare militanza e fare attività che non siano che non facciano parte di un circuito commerciale riconosciuto perché poi si viene comunque colpiti ossia nell'occhio del ciclone da parte delle istituzioni e non è facile vivere una vita tra virgolette tranquilla e normale con famiglia e lavoro quando magari rischi di prenderti una denuncia perché vuoi che la socialità venga continuata a essere vissuta in un certo modo è difficile e quindi sono tutte persone secondo noi da premiare senti cambiando argomento mi hanno detto che una volta avete scritto un inno anche per la Fiorentina Terra di Briganti, come mai poi non è stato scelto? Addirittura mi insinuavano che era troppo politicizzato per essere usato dalla curva, non lo so No, allora, boi, calmi, non è un inno della Fiorentina ma era un brano dedicato a un gruppo che frequentava la curva Fiezole nel senso il coro non è stato usato allo stadio perché noi non abbiamo nessuna intenzione di andare a mettere il dito dove non si deve mettere lo stadio ha una sua storia, c'è chi lo frequenta, ha delle sue regole, c'è chi lo frequenta e è giusto che chi lo frequenta decida cosa fare noi in questo momento frequentiamo meno, diciamo, il nostro era solo un omaggio a un gruppo che frequentava la curva Fiezole, non era l'inno della Fiorentina Se posso dire una cosa è giusto dirla, penso, no Massi? Noi siamo stati invitati anche spesso dai ragazzi della curva a suonare abbiamo sempre declinato, a parte un'occasione in cui siamo andati a campi a suonare al teatro abbiamo sempre declinato perché? Perché noi per prima abbiamo vissuto la curva sappiamo perfettamente quali sono le dinamiche in curva, Firenze purtroppo no, è una curva che la politica la lascia fuori noi la rispettiamo questa scelta e quindi per primi quando ci è stato, diciamo così, proposto di partecipare abbiamo sempre messo in guardia chi ci invitava dicendo guarda se inviti no inviti un gruppo che fa politica quindi fa anche politica e quindi sappi che noi preferiremo di no perché comunque ci sembra irrispettoso nei confronti della Fiesole noi l'abbiamo sempre detto perché avendo frequentato la curva ci sentivamo in obbligo di doverlo dire non perché ci vogliamo per forza preservare dall'andare però è giusto che chi ci inviti sappia chi invita perché insomma in curva Fiesole non è che ci sono soltanto persone che la pensano come noi quindi abbiamo sempre tenuto al fatto che si sapesse questa cosa e noi non saremmo andati lì a suonare i pezzi di altri insomma avremmo suonato i nostri e quindi avrebbe potuto portare anche delle discussioni è andata così, figurati se a noi non ci farebbe piacere suonare per la nostra curva, per la nostra squadra spesso in questo momento che ci abbiamo questi due ciabattini maledetti Senti, tornando al disco come l'avete composto, di cosa parla, insomma se ci volete parlare un po' del disco, bene Allora il disco sono 11 tracce, 11 tracce che sono venute fuori in questi ultimi anni tra un concerto e l'altro siamo riusciti a trovare il tempo di tirare fuori queste canzoni queste canzoni parlano di cose che a noi premono, cose vissute sulla nostra pelle, cose vissute da nostri amici, nostri compagni e delle nostre compagne Trattano anche temi importanti come può essere l'ambientalismo oppure le migrazioni e su questo posso dire io, sto lavorando con i ragazzi minori rifugiati e devo dire che dalle loro storie, dalle loro vite se vincono delle cose che magari vedendo un telegiornale o ascoltando un servizio ci possano rimanere diciamo così come notizia però vedendo le persone cosa hanno vissuto ci danno questi stimoli di comporre poi altre canzoni sulla repressione, persone di noi hanno avuto problemi di daspo quindi ci siamo sentiti di scrivere una canzone sul daspo, su quello che è su come viene riportato oggi come oggi dagli stadi alle piazze abbiamo parlato di abusi in divisa purtroppo perché è un dato che ci siano questi abusi ultimamente a Firenze è successo anche questa cosa però siamo partiti diciamo dal caso Magherini, un ragazzo della nostra età che è stato ammazzato in San Frediano e da lì siamo risaliti a Lonze, a Cucchi, a Dobrando un altro pezzo importante secondo me è un pezzo che si chiama Money che parla di denaro parla del tempo, parla di quello che ci viene privato in una situazione diciamo lavorativa che oggi come oggi è molto precaria e noi siamo over 40 alcuni ancora hanno precariato altri che lavorano a giornata insomma sono cose che non le raccontiamo ci viene spontaneo cioè è anche troppo facile potrebbe sembrare argomenti imbeccati invece purtroppo ci vengono dal cuore Dove potremo venire a sentirvi suonare nei prossimi mesi? principalmente il turvere proprio partirà da gennaio probabilmente ci stiamo preparando da gennaio fino all'estivo credo che non mancheranno le occasioni Firenze ma noi devo essere sincero tendiamo a voler suonare principalmente fuori dalla nostra città ma non perché abbiamo qualcosa contro Firenze ci mancherebbe perché comunque ci sembra che suonare continuamente nella città dove sei nato ti dà un po' quest'aura di autocelebrazione che a noi non ci piace sinceramente cioè trovarsi a suonare comunque sempre noi nei soliti posti davanti più o meno alle solite persone che Firenze non è New York per l'amocicchiario non ci piace perché non ci sembra neanche giusto e rispettoso nei confronti di chi ti viene a vedere insomma voglio dire non siamo nei confronti degli altri gruppi non siamo mica Rolling Stone e poi potenzialmente ci piace conoscere altre realtà e quindi mireremo tanto su fuori però insomma siete tutti ben accetti qua c'è un gruppo Firenze qua c'è un gruppo Firenze qua c'è un gruppo Firenze va Grazie a tutti.